E dove stiamo? E dove stiamo? E dove stiamo? E cosa stiamo facendo? Così bello! Così bello! Alex Magri! Ciao ragazzi! Così bellici su? Ciao! Praticiamo presto, certo! Che stiamo combinando con Alex? Che stiamo combinando con Francesca? Stiamo diventando... Presto Ci vedrete al Festival di TikTok! Non ti serve! Ma volete sapere dove siamo? Ora ve lo faccio vedere! Siamo qua, la Digital Sound! La Digital Sound! Si, la pulletta ne ha pagato! No! No, non abbiamo la luce! Ah, non abbiamo la luce! Ragazzi c'è la luce, la Digital Sound! L'hanno pagata, va bene! A presto, a presto! A presto con Alex! Grazie! Grazie! Grazie!